Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi invita Filippo a farsi sentire, affermando se i due ragazzi sono assieme facciano avere loro notizie. Se Filippo è da solo si faccia sentire, spieghi cos'è successo. Potrebbe essere utile anche a lui. A parlare al procuratore Bruno Cherchi che ha lanciato un appello a Filippo affinché si metta in contatto con la famiglia o le forze dell'ordine. L'angoscia e il dolore per le famiglie dei due giovani aumenta di ora in ora. Venerdì mattina sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari mirate a trovare qualche elemento utile nelle ricerche che sono diramate in varie province.